Era ai domiciliari per spaccio di droga con tanto di braccialetto elettronico, ma comunque aveva deciso di non interrompere la sua attività illecita, trasformando l'appartamento in un vero e proprio ingrosso dello spaccio. Per lui si sono così aperte le porte del carcere a seguito di un blitz nel suo appartamento della Guardia di Finanza di Arezzo. Protagonista della vicenda, un 38enne di origini marocchine con regolare permesso di soggiorno. L'uomo era finito nel mirino delle fiamme gialle che, dopo aver raccolto segnalazioni e numerosi elementi di prova sull'attività di spaccio perpetrata all'interno di un condominio cittadino, ha richiesto ed ottenuto dall'autorità giudiziaria retina un decreto di perquisizione domiciliare firmato dal PM Marco Dioni. I finanziari della compagnia, dopo numerosi appostamenti, hanno così eseguito il blitz. L'abitazione è stata perquisita al suo interno, era in corso il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente per una successiva vendita. L'uomo, alla vista dei militari, ha anche tentato di gettare lo stupefacente nel batter, travolgendo i finanzieri che sono riusciti a mobilizzarlo dopo numerosi e faticosi tentativi. Sono stati così trovati e sequestrati circa 4 grammi di cocaina, suddivisa in dosi e in fase di taglio. Considerata la resistenza pubblico ufficiale, l'uomo, come disposto dal PM, è stato arrestato. Il 38enne viveva assieme alla compagna, anche lei attualmente detenuta per reati in materia di spaccio e la figlia della donna, una 14enne, che è stata affidata ai servizi sociali di Arezzo.